Buonasera, ben ritrovati al Consiglio del tuo appuntamento con la voce delle istituzioni, ospite in studio, come è sempre gradito, il Presidente dell'Unione Montana a Gordina, Michele Costa, che saluto e che ringrazio per la disponibilità. Mi ringrazio io, buonasera a tutti. Allora, lei sta per compiere un anno di mandato, l'anno più tribulato di così non poteva essere, perché è stato eletto quando? In novembre, no? È a novembre del 2019, sì. E poi è arrivato con tutte le difficoltà, già è un ente che di per sé non è di facile governo, perché gli impegni che hanno tutti gli amministratori devono conciliarli con gli impegni dell'Unione Montana. In effetti, le Unioni Montana, a mio modo di vedere, non lo dico perché ho assunto questo ruolo, credo che chi mi ha conosciuto finora fra i colleghi possa dirlo, ho sempre riconosciuto che le Unioni Montana possono rappresentare veramente un ente di governo nel territorio molto importante per le nostre vallate. Di lavoro da fare ce n'è tanto, per cui è un ulteriore incarico, un ulteriore impegno. Come vi siete trovati? Via Skype, videoconferenza? Abbiamo cercato più possibile di tenerci in contatto con tutti i canali, come hanno fatto le scuole, gli altri enti, tutti gli uffici, praticamente sì, le piattaforme digitali, tante telefonate, riunioni su Skype e altri gruppi. Senta, probabilmente questo ha messo anche in evidenza che alcune zone hanno qualche difficoltà con la banda larga. Sì, questo sicuramente è stato uno dei problemi, anzi devo dire la verità che per certi versi abbiamo anche apprezzato la possibilità di riunirci in videoconferenza perché molto spesso, soprattutto nei nostri territori, si percorrono chilometri e si consuma molto tempo per incontrarci fisicamente e riconosco che comunque l'incontro in presenza è la cosa migliore di tutte. Però in certi casi la riunione in videoconferenza è importante, quindi si è detto sfruttiamolo questo mezzo. Certamente le infrastrutture, e parlo proprio dei collegamenti, sono la parte più debole di tutto il sistema e quindi anche qua sono nate le idee per cercare di investire in futuro, per migliorare questi collegamenti e garantirli non solo agli amministratori naturalmente ma a tutti i cittadini. Sì, poi lo Stato proprio ultimamente ha nuovamente fatto promessa che verranno infrastrutturate soprattutto le zone a fallimento di mercato, si dice così attraverso questa partnership. Parlare di cablare una grande metropoli credo che sia abbastanza banale perché credo che la fibra sia presente da anni ormai. Arrivare a cablare le ultime frazioni dei nostri paesi di montagna credo che sia la vera sfida. Un'altra sfida che voi dovete affrontare, gioco forza, è quella delle aree interne. Ci sono quattro aree interne nel territorio del Veneto che sono Asiago, il Lagordino, il Comedico e il Polesine. Ci sono molti soldi a disposizione, bisognava presentare dei piani, creare delle strategie e per la verità ormai siamo passati un bel po' di anni da quando è stato dato l'avvio a questo progetto. A che punto siete voi? Allora, devo dire che è stato fatto un grande lavoro di sinergia col territorio, fatto in precedenza, io sono arrivato nella fase conclusiva di questo percorso, per cui si sono ragionati quali erano i settori su cui intervenire, quindi il turismo, l'agricoltura, la rete sanitaria, la scuola e la rete dei trasporti e ragionando su quali erano le aree su cui intervenire, sono stati avviati i lavori con i gruppi di lavoro dei soggetti più interessati a partecipare a queste discussioni. una cosa è sapere che ci sono i problemi in questo settore, una cosa è trovare le idee, i suggerimenti, le proposte e quindi le progettualità valide per provare a risolvere queste criticità. Questo è stato fatto negli ultimi mesi e purtroppo anche qua Covid-19 ha un po' rovinato i piani e ha creato qualche confusione, qualche fastidio nella corretta gestione perché incontrarsi in presenza sì era necessario in questo caso, comunque i lavori sono andati avanti. Siamo nella fase conclusiva per cui è stata consegnata il progetto della strategia, quindi le vere e proprie schede con gli interventi finalizzati, quindi nel settore della sanità abbiamo ipotizzato questo intervento, la stima della spesa è circa questa e quindi si va avanti e quindi siamo in attesa adesso delle verifiche da parte della Regione e del Governo per arrivare entro la fine dell'anno alla firma dell'accordo del programma quadro che definisce appunto... Questa verifica riguarda la compatibilità della spesa? Sì, riguarda la bontà dell'intervento, cioè a dire non stiamo facendo qualcosa che sia completamente fuori dai canoni previsti all'area interna, ma dubito che sarà così, a meno di errori macroscopici ma eventualmente sarebbero state le sviste, ma non sarà così, della compatibilità con le normative e quindi con la compatibilità con le valutazioni economiche che sono state fatte. Di quanti soldi stiamo parlando? Ma stiamo parlando di un po' più di 8 milioni di euro per la Gordino. È un conto, come si dice, della serva, in senso buono naturalmente. Quanti sono gli abitanti della Gordino? Siamo a circa 18 mila. Quindi diciamo che sono 4 mila euro ad abitanti che possono essere investiti in servizi sostanzialmente, in promozione. Di fatto l'obiettivo delle aree interne è quello di garantire al cittadino che vive in quel territorio di poter continuare a vivere in quel territorio e quindi è vero che 4 mila euro a cittadino non sono pochi, da un certo punto di vista viene da dire che non sono neanche tanti, perché se dovessimo osservare tante difficoltà che possiamo avere, forse la cifra dovrebbe essere anche più alta, ma non voglio fare il ruffiano. No, 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 no. Non sono niente con il commerciante, ma c'era area vasta, fondi, confini, confini, di tutto e di più, non si può certo dire che manchino soldi. No, 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 devo dire la verità che in quest'ultimo periodo purtroppo manca la semplicità nell'applicare le regole la burocrazia io mi auguro veramente che il decreto semplificazione abbia oltre la parola decreto la parola vera semplificazione anche nei contenuti perché ne abbiamo bisogno tutti tutti veramente dal cittadino che si confronta con l'ente all'ente stesso che si trova a produrre una quantità di carte e burocrazia che è veramente enorme alcune operazioni sono difficili altre sono un pochino più facili una volta individuato l'oggetto di spesa voi avete fatto molti acquisti per quanto riguarda mezzi che sono andati a chi? siamo alle battute finali di uno dei progetti d'area vasta che sono in capo all'Unione Montana-Gordina è una bella soddisfazione perché era stato fatto il ragionamento di investire circa 900 mila euro per acquistare con cofinanziamento delle associazioni dei mezzi proprio per tutte le associazioni di volontariato che sono importantissime per il nostro territorio quindi una volta fatti i ragionamenti siamo riusciti a raggiungere i gruppi di volontari dei distaccamenti dei vigili del fuoco il soccorso alpino e le croce verdi per cui sono stati acquistati per le prime due dei pick up che possono essere funzionali all'immediato intervento che devono fare e invece per le croce verdi sono stati acquistati di mezzi in ambulanza e un altro mezzo analogo per le immediate emergenze credo che sia stato un bel lavoro una bella operazione per questi soggetti per queste associazioni che ci garantiscono veramente la sicurezza con una piccola parte di questo fondo sono stati acquistati dei mezzi meccanici proprietà dell'Unione Montana per l'utilizzo come protezione civile parliamo di un Unimog quindi un mezzo multifunzionale che può essere utilizzato anche da tutti i comuni allora io devo giocare chiaramente di semplificazione si parla da sempre di fusione dei comuni dalle nostre parti non è che si veda molto bene perché ci vuole una certa presenza un certo campanilismo nel senso buono e si opta sempre per la unione di servizi le unioni montane è proprio questo dovrebbero servire e servono è più che corretto il discorso e allora uno degli argomenti maggiormente dibattuti è quello di avere degli uffici che possono svolgere il lavoro i comuni sono iperintasati mancano i segretari comunali sono problemi mica da poco in questo caso il vostro servizio progettazione per gli interventi idrogeologici è fondamentale ma l'Unione Montana da tanto tempo ormai si occupa del coordinamento degli interventi sulla rete idrogeologica finanziati dai canoni idrici ultimamente si sta occupando anche sempre di più di progettazione di piccoli parliamo di piccoli interventi ma di dettaglio e funzionali alla sicurezza del territorio e grazie alla squadra degli operai anche all'intervento diretto quindi riusciamo a fare si riescono a fare veramente dei lavori importanti per le nostre vallate è riuscito ad andare in soccorso agli uffici tecnici dei comuni? ma in realtà stiamo anche questo che ho citato è un esempio specifico su un certo tipo di interventi stiamo provando a lavorare anche per quanto riguarda l'organizzazione di una centrale unica di committenza e della funzione di responsabile unico del procedimento focalizzata sull'Unione Montana in maniera tale che chi vuole nei comuni facenti parte dell'Unione Montana possa fare riferimento all'ufficio tecnico dell'Unione Montana molti comuni hanno presentato il loro interesse da questo punto di vista dobbiamo definire nel dettaglio perché non è una cosa che si può decidere in 448 dobbiamo definire nel dettaglio le modalità di utilizzo di una funzione come questa perché non stiamo parlando di una cessione completa del servizio all'Unione Montana ma di una organizzazione magari anche specifica un servizio di supporto e magari per alcuni temati esattamente che cos'è l'ASCA? ASCA è l'azienda speciale consortile a Gordina di cosa si occupa? si occupa di fatto nello statuto in maniera più ampia si occupa della gestione sociale in Agordino nella realtà si occupa attualmente della gestione del polifunzionale di Agordo la casa di riposo che è di fianco all'ospedale e è un risultato che è stato ottenuto con grande lavoro dei comuni della Gordino e devo dire la verità che è un risultato molto importante che relazione c'è tra ASCA e Unione Montana? allora di fatto l'ASCA è diciamo a sé stante però i soggetti che fanno parte dell'Unione Montana sono gli stessi comuni che fanno parte di ASCA e che hanno costituito questa azienda speciale proprio per la gestione io ho fatto questo lungo percorso per spiegare anche a coloro che sono a casa qual è la relazione e il perché della domanda con il Covid una delle emergenze più importanti ma mi pare si sia manifestata in modo molto flebile o molto poco marcato in Agordino? va detto e va detto anche di tutte le strutture per anziani che sono presenti in Agordino che la gestione dell'emergenza Covid è stata direi veramente precisa puntuale e direi da manuale perché non c'è stata emergenza non c'è stato dramma nelle strutture per anziani che abbiamo in Agordino e questo può tornare utile anche per i prossimi mesi dove si teme possa esserci un ritorno? ma direi che il buon esempio che è stato dato e le buone pratiche che sono state applicate devono essere prima di tutto riconosciute ai soggetti che gestiscono queste strutture perché parliamo abbiamo nominato la struttura di Agordo ma ce n'è una a Taibong e ce n'è una a Pieve di Livina a Longo ad Araba quindi voglio dire in tutti e tre i casi la gestione ha fatto sì che la salute dei nostri anziani sia stata tutelata e garantita quindi credo che sia di buon auspicio anche per il futuro se nella parte più delicata nel momento più delicato dell'emergenza Covid-19 i risultati sono stati questi credo che possiamo guardare con fiducia al futuro l'arrivo di molti turisti comporta naturalmente la soddisfazione per il recupero un po' dell'economia ma anche tutte problematiche legate ai servizi in modo particolare la raccolta dei rifiuti voi avete dovuto un'altra volta riprendere le misure e avete adottato alcuni sistemi interessanti o comunque sono in previsione come la distribuzione ad esempio dei sacchetti la gestione integrata dei rifiuti in Agordino viene fatta da Valpe che è soggetto partecipato dai comuni di Agordino attraverso l'Unione Montana quindi qua torniamo sempre sull'argomento ovviamente l'Unione Montana con il Comune di Sedico insieme al Comune di Sedico certo devo dire che ci sono state delle criticità durante il periodo dell'emergenza Covid come l'apertura degli ecosportelli piuttosto che l'apertura degli ecocentri che però in qualche caso per esempio per quanto riguarda gli ecosportelli si sta sfruttando come una volta che uno affronta un problema se lo fa in maniera sana poi vede quali possano essere le soluzioni quindi per esempio la chiusura forzata degli ecosportelli ha fatto ragionare sulla possibilità di fare la consegna a domicilio per esempio dei sacchetti piuttosto che dei bidoni che devono essere cambiati e via dicendo per quanto riguarda il famoso pacchetto turista che è il pacchetto dell'ultimo giorno per in particolare il proprietario della seconda casa che si trova a non poter fare la raccolta differenziata spinta porta a porta come abbiamo in Agordino a non riuscire a rispettarla e quindi il sistema prevedeva diciamo il deposito il deposito a margine strada di un sacchetto colorato che rappresentava il sacchetto di conferimento dell'ultimo giorno che non era una pratica eccellente ecco spiego perché in giro cani animali selvatici ovviamente sono attirati e poi in certi momenti c'è anche una quantità notevole per cui l'orezzo non era caratteribile diciamo che un po' tutto anche la sola vista non era assolutamente e poi non era un sistema corretto non è un sistema adatto insomma abbiamo lavorato insieme a Valpe e è stato avviato proprio questo è stato un servizio sperimentale con dei container che in via sperimentale sono stati posizionati in Valle del Biois 1 e 1 in Val Cordevole a Caprile per cui l'utente della seconda casa può accedere direttamente con un codice e può buttare in questo container specifico il sacchetto dell'ultimo giorno quindi vogliamo vedere quali sono i risultati di questa sperimentazione e mi auguro che la cosa possa essere implementata e sviluppata c'è un'altra cosa che riguarda l'Unione Montana e i fondi comuni di confine stiamo aspettando stiamo attendendo il nulla osta da parte del comitato paritetico a Trento perché abbiamo deciso in Agordino di investire 2 milioni di euro nella completa riqualificazione di tutti gli ecocentri è una cosa importante per due aspetti il primo è che è un obbligo che abbiamo quello della riqualificazione e la messa a norma degli ecocentri tra l'altro due verranno completamente rifatti l'altra cosa è che altrimenti il costo sarebbe entrato in tariffa e quindi l'avrebbero dovuto pagare nel tempo gli utenti abbiamo fatto questo ragionamento abbiamo deciso di mettere dei fondi di comuni confine per questa spesa ma poi speriamo che tutto venga agevolato anche della possibilità di fare le riunioni in presenza perché come si dice sarà sicuramente utile tecnologicamente avanzato il contatto con il video però guardarsi negli occhi veramente in presenza cambia molto le cose è assolutamente vero allora siamo stati con il presidente dell'Unione Montana a Gordina Michele Costa che ringrazio sempre per la disponibilità buon lavoro grazie a voi per averci seguito e buona serata